Dalle medaglie d'oro già portate a casa, guardando ai giochi del Mediterraneo, non si dimenticano nel frattempo anche i sport più piccoli, anche di periferia, con la salvaguardia e l'attenzione verso quelle infrastrutture che servono. Assolutamente sì. In questi giorni si è sentito qualcuno che si lamentava del fatto che non ci fossero le strutture adatte in Puglia, adatte a quello che sta succedendo e ai risultati che i pugliesi stanno portando. Noi anche in funzione dei giochi del Mediterraneo stiamo lavorando per una città che abbia degli impianti sportivi rilevanti, importanti e che possano dare spazio ai nostri atleti perché non vadano via da Taranto. Questa è una cosa che purtroppo è successa troppo spesso e dobbiamo fare in modo che non succeda più. Benedetta prima di tutto avrà la sua piscina.